Musica Il dottore Antonio Cercielo, responsabile servizio di cardiologia clinica Trusso di Ottaviano, che fa parte del gruppo Neuromed, fa un'analisi dettagliata non solo sugli ultimi lavori scientifici condotti dal team di professionisti del servizio di cardiologia, ma anche sui risultati di questa eccellenza sia clinica che di ricerca. Il servizio di cardiologia è cresciuto molto in questi ultimi anni. Questo grazie al melangement aziendale che ha investito sul servizio, ma soprattutto grazie anche alle persone che mi hanno collaborato e coadiuato in questa funzione. E quindi mi fa piacere presentare il dottor Norman Amaida, molto esperto in cardiologia strumentale, soprattutto in ecocardiografia e ecocolordoppler. Poi la dottoressa Giuseppina Cristiano, responsabile del reparto di lungo degenza, dove noi solitamente non avendo un reparto di cardiologia appoggiamo i nostri pazienti scompensati. E poi ultimamente è stato inserito nel gruppo della cardiologia anche l'infermiera Sara Pone, che è un'infermiera dedicata alla cardiologia. Tutto questo è possibile grazie a questa collaborazione che noi abbiamo creato e voglio ringraziare anche il direttore sanitario, il dottor Giuseppe Ascione, che ci è sempre vicino in queste iniziative. Il dottore Cercello in modo particolare si sofferma sugli ultimi lavori scientifici che hanno avuto come focus lo scompenso cardiaco. Gli argomenti attuali della ricerca cardiologica sono orientati verso lo scompenso cardiaco e la fibrillazione atriana. I lavori che noi abbiamo presentato sia alla SIC che a NAMCO vertono tutti sullo scompenso cardiaco e questo perché con la pubblicazione delle ultime linee guida la terapia dello scompenso cardiaco è stata completamente sovvertita. Infatti nel gergo cardiologico si parla di quattro pilastri. Cioè si è visto che il paziente scompenzato trae il giovamento dalla terapia se questi quattro farmaci importanti che sono il Sacubitrin, il Varsartan, il Dabaglifonsin, il Betabloccan e il risparmiatore di potassio vengono dati tutti e quattro insieme dall'inizio della sintomatologia. Cioè nel momento in cui viene posta la diagnosi di scompenso cardiaco si inizia questa terapia. È cambiata perché prima i farmaci dovevano essere associati gradualmente, si partiva con due, poi si associava il terzo, poi si associava il quarto. Si è visto che tutto questo comportava soltanto una perdita di tempo per il paziente perché per raggiungere il target terapeutico ci vonevano dai tre ai quattro mesi. E quindi era tutto tempo perso per il paziente, nel senso che il paziente non raggiungeva quei vantaggi che la terapia gli poteva dare da subito. Quindi questo è stato il grande risultato. E mi fa piacere anche precisare, affermare, che la nostra attività scientifica, oltre che essere riconosciuta da queste grosse società nazionali, è stata anche riconosciuta dagli esperti dello scompenso cardiaco. Infatti il 3 e il 4 marzo siamo stati a Firenze perché c'è stato un confronto tra esperti sullo scompenso cardiaco dove abbiamo parlato appunto delle ultime linee guida. E la nostra soddisfazione è che una cardiologia piccola come è la cardiologia della clinica Trusso di Ottaviano era presente tra i 30 esperti a livello nazionale. E questa cosa avverrà anche il 13 giugno però per la fibrillazione atriana dove io sarò relatore in un congresso con 15 cardiologi della regione Campania dove parleremo di fibrillazione atriana perché anche nella fibrillazione atriana attualmente le linee guida sono cambiate e quindi è giusto che ci sia una dovuta informazione. Questo sempre con la finalità di offrire la migliore terapia ai pazienti cardiopatici. Come più volte detto, importante anche per lo scompenso cardiaco è la prevenzione. Allora il primo consiglio che mi sento di dare è che il momento in cui un paziente lamenta un po' di dispenea, cioè un po' di affanno o diciamo lo avverte a lui o lo riferisce al proprio medico sarebbe utile che si sottoponga a una visita cardiologica perché il sindomo principale è proprio una dispenea. Questo perché? Perché diciamo molte volte si perde tempo facendo esami che poi si rivelano utili. Proprio ieri leggevo un lavoro dove si ribadiva l'utilità della clinica nello scompenso cardiaco perché la diagnosi dello scompenso cardiaco è una diagnosi clinica. Tanto è vero che vince la classificazione NIA delle quattro classi che è basata su una clinica, cioè è basata su un'esistenza o meno della dispenea. Molte volte, ripeto, il paziente perde tempo perché pratica la radiografia del torace, NATAC, sono tutti esami che possono sicuramente essere utili ma che molte volte sottraggono del tempo al paziente per iniziare la giusta terapia. Quindi il consiglio che do sia ai pazienti ma molto modestamente anche ai medici di famiglia è che quando un paziente si rivolge a lui per dispenea io direi la prima cosa da consigliare sarebbe una visita cardiologica. Il paziente scompenzato, sottoposto alla terapia può anche non avere un miglioramento clinico quindi in questi casi può essere utile un'applicazione di device che migliorano la contrattilità cardiaca e che proteggono il paziente anche da complicanze aritmiche che nel caso dello scompenso sono delle complicanze gravi perché si tratta di tagli cardie ventricolari che possono essere anche mortali quindi l'impianto di un ICD comporta una protezione maggiore per il paziente perché nell'eventualità che dovesse insorgere una tagli cardia o una fibrillazione ventricolare interviene il device e interrompe l'aritmia e quindi salva la vita al paziente. Intanto la ricerca in campo cardiologico prosegue sia sullo scompenso cardiaco che sulla fibrillazione. Sicuramente la cardiologia è una delle specialità maggiormente in evoluzione in questi ultimi anni quindi diciamo l'attenzione nostra è chiaramente sempre puntata su una innovazione ma diciamo che al momento i cambi di principale interesse sono questi lo scompenso cardiaco e la fibrillazione dove noi siamo già a un buon livello sia assistenziale e sia di ricerca però chiaramente siamo sempre vigili sulle novità e cerchiamo di dare sempre un nostro contributo a quella che è la ricerca scientifica. Un augurio che mi faccio, faccio ai miei collaboratori e mi rivolgo alla gestione anzientale il mio augurio sarebbe che come è stata creata un'eccellenza in campo neurologico a Pozzilli, a Ottaviano, possa essere creata un'eccellenza cardiologica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!